Che cosa il programma elettorale del terzo polo propone ai giovani perché abbiano più fiducia nel futuro e vengono più volentieri a votare? I giovani sono sicuramente una delle priorità per il nostro programma e personalmente lo sono anche per me, che da quando sono diventato papà o due figli di 9-4 anni, sento anche una chiamata a occuparmi di quello che sarà il futuro delle generazioni più giovani. Nel programma c'è un capitolo appositamente dedicato ai giovani che invito tutti a guardare e ci sono diversi riferimenti anche in altri punti del programma. Velocemente i temi centrali riguardano l'importanza della cultura per i giovani sia in ambito scolastico con un rafforzamento della proposta formativa per i giovani, ma al tempo stesso anche della cultura intesa proprio nel senso stretto del termine, quindi favorire anche il loro accesso, questo non riguarda i giovani ma tutta la popolazione in realtà, ai siti culturali e anche per i giovani sempre un loro supporto per i giovani che intendano avviare nuove attività imprenditoriali e non tutti devono essere per forza chiamati ad essere imprenditori, per quelli che invece vogliono un lavoro dipendente, favorire l'assunzione di giovani da parte delle imprese con incentivi. E parliamo di scuola, visto che i giovani con la scuola hanno un rapporto diretto se non privilegiato, c'è bisogno di scuola nel nostro paese, c'è bisogno di formazione, di intensificare e mi pare che il terzo pollo sia sensibile a questo tema. Come? Il tema della formazione della scuola è fondamentale, assolutamente bisogna che il nostro paese superi il gap che ci allontana da altri paesi in termini di resa, alcuni indicatori che riguardano la resa degli studenti dimostrano che c'è una certa distanza con gli altri paesi europei, quindi bisogna rafforzare la scuola con maggiori investimenti anche nelle strutture, c'è anche un piano per l'edilizia scolastica nel programma del terzo polo, come dicevo prima anche rafforzando e allungando l'obbligo scolastico fino ai 18 anni per tutti, in modo tale da avere una scuola che possa garantire ed essere assolutamente in grado di favorire le pari opportunità per tutti per rendere il nostro paese e i nostri giovani in grado di affrontare le sfide della società moderna.